Con questa meditazione voglio rilassare il corpo prima di addormentarmi, quindi scelgo un posto tranquillo, abbasso le luci e mi sdraio in una posizione comoda per me, usando tutti i supporti che sono necessari. Posso coricarmi direttamente a letto se voglio e inizio facendo qualche respiro più profondo. Inspiro dal naso ed espiro dalla bocca, inspiro, sento l'aria entrare nel corpo e gonfiare i polmoni, espiro e sento una sensazione di rilascio, a mano a mano che i polmoni si svuotano. Alla prossima ispirazione lascio scendere le palpebre e rimango ad occhi chiusi. Le gambe sono distese e leggermente divaricate, le ginocchia morbide. i piedi cadono verso l'esterno, le braccia sono abbandonate ai lati del corpo, oppure posso piegare i gomiti e appoggiare le mani sull'addome. la testa appoggia su un supporto morbido, non troppo alto, collo e spalle sono rilassate. il corpo è comodo e ben sostenuto, posso lasciarmi andare alla superficie sotto di me, abbandono il peso del corpo con fiducia, inspirando, immagino di portare l'aria in profondità nell'addome, trattengo a polmoni pieni solo per un istante e poi lentamente espirando, lascio uscire tutta l'aria. Ad ogni ispirazione l'aria entra e riempie il corpo, ad ogni ispirazione l'aria esce e porta con sé ogni tensione, ogni sensazione negativa, ogni pensiero insistente. prendo un altro respiro profondo, inspiro dalle narici, trattengo per un istante e poi respiro e lentamente lascio uscire l'aria completamente. sento che le tensioni del corpo iniziano ad allentarsi. laddove ancora ne avverto, provo consapevolmente a rilassare. porto l'attenzione ai piedi, inspirando punto i piedi, contraggo le piante, contraggo le caviglie, trattengo un istante e poi espirando rilascio. porto l'attenzione alle gambe, porto l'attenzione alle gambe, inspirando fletto i piedi, contraggo i polpacci, contraggo le cosce, trattengo un momento e poi espiro, lascio andare. osservo la sensazione di profondo rilassamento dei tessuti quando lascio andare la contrazione. con un'altra inspirazione contraggo forte i glutei, trattengo un istante, i polmoni pieni, i muscoli attivi. poi espirando rilascio. muovo ora la consapevolezza verso l'addome. contraggo l'addome inspirando. rimango un momento per sentire la tensione data dai muscoli che si attivano. e poi espiro, lascio andare. l'addome torna ad essere morbido. l'attenzione passa alla schiena. e qui con un profondo inspiro inarco leggermente il corpo e attivo i muscoli della schiena. i muscoli della parte lombare, toracica e dorsale si contraggono. e poi espiro. lascio andare l'aria. le tensioni scompaiono. ho l'impressione di sprofondare ancora di più nel materasso. sposto l'attenzione alle mani. e con la prossima inspirazione faccio il pugno. stringo e contraggo tutti i muscoli delle braccia. sollevo le spalle e le avvicino alle orecchie. trattengo un momento sentendo la tensione che sale dalle mani fino alle spalle. contraggo forte. e poi espirando lascio andare. sciolgo. rilasso. e provo a notare quali sono le sensazioni ora in questa zona del corpo. le spalle cadono verso il basso. sento le braccia abbandonate. avverto tutto il corpo. più pesante. più caldo. poi prendo ancora un inspiro e contraggo tutti i muscoli del viso. aggrotto la fronte. stringo le palpebre. arriccio le labbra. stringo forte. e poi espirando lascio andare tutto. rilascio ogni tensione dal viso. la fronte ora è distesa. le palpebre rilassate. le guance morbide. i denti non si toccano. respiro dopo respiro sento il corpo sempre più rilassato. dalla sommità del capo fino alle dita dei piedi. il corpo è completamente e profondamente rilassato. il mio respiro ora è regolare, spontaneo. il mio respiro ora è regolare, spontaneo. avverto l'aria a fluire dentro e fuori dalle narici. anche la mente è quieta. avverto una piacevole sensazione di rilascio, di calma interiore. una bolla di pace mi avvolge. posso abbandonarmi ad un sonno rigenerante, nutriente. di calma interiore. di calma interiore. di calma interiore. di calma interiore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.